Puoi spiegare in modo semplice che cos'è la blockchain? Certamente, allora, innanzitutto devi considerare la blockchain come un grande libro digitale dove vengono registrate delle informazioni, come se fosse una specie di diario, ok? Diario che però non tieni solo tu, diario che viene tenuto da tante persone in giro per il mondo. Infatti un diario decentralizzato, blockchain, catena di blocchi. Quindi immagina che le pagine di quel diario siano dei blocchi e ogni volta che succede qualcosa su quel libro, ok? Quindi su quell'ecosistema, una transazione o c'è un'informazione nuova, c'è una nuova pagina, quindi viene creato un nuovo blocco. Ogni pagina è collegata alla precedente con una catena, catena di blocchi. Questo fa sì che è impossibile praticamente cambiare quello che è stato scritto prima, quello che è stato inserito nel blocco precedente, perché altrimenti dovrei modificare tutti i blocchi. Infatti questa è una grande cosa da blockchain, che io non posso andare a modificare quello che è successo prima. In più, tutti possono vedere questo libro, ok? Perché è condiviso a tutti, perciò tu non puoi. Oltre che dovresti cambiare tutto, ma anche se vuoi farlo, gli altri ti vedono e quindi non te lo permettono di fare, perché è trasparente, è decentralizzato e una volta che tutti gli utenti vanno ad approvare le modifiche o quello che è successo qui in un nuovo blocco, questo è e nessuno può cambiarlo. Blockchain nata proprio per Bitcoin, da Satoshi Nakamoto, quindi una o più persone sotto forma di Satoshi Nakamoto e serve effettivamente per far funzionare Bitcoin, anche se il suo utilizzo ora viene usato al di fuori anche di Bitcoin e delle cripto, perché può essere un modo per andare a registrare e verificare delle informazioni in modo sicuro e trasparente. La blockchain è stata, cioè non è che Satoshi ha preso il cappello e ha fatto uscire fuori la blockchain, era già una cosa che comunque si pensava, Satoshi ha unito tutti questi vari concetti e ha fatto sì che venisse fuori la blockchain, quindi tanta roba e sicuramente il gran successo di Bitcoin e tutte le grandi innovazioni che Bitcoin ha portato derivano proprio anche dalla blockchain stessa. Perciò questa è la situazione e spero di essere stato chiaro. Quindi immagina come se fosse un libro che ha tante pagine collegate e che le pagine non possono essere cambiate, secondo me è un'ottima metafora.